fare Rago Shenron, compari chi mi ha chiamato? Ehi, ma è già notte? Oh mamma, il drago Oh no, non ci posso credere Allora, qual è il tuo desiderio? Te lo dico subito Shenron, questo mio sogno non può concretizzarsi senza il tuo prezioso aiuto Di che si tratta? Ecco, vorrei che creassi un pianeta identico a Plante, il mio luogo d'origine che fu spazzato via molto tempo fa, dagli invasori Saiyan e dalla loro furia distruttrice Bene, ho capito Il folle progetto di ricreare la civiltà Zufuru di cui Baby sarà il sovrano assoluto purtroppo sta per concretizzarsi Shenron esaudisce i desideri di chiunque possieda le sette sfere del drago e questa volta esse sono cadute nelle mani sbagliate Finalmente la nostra civiltà ha una nuova dimora, io battezzo questo corpo celeste pianeta Zufuru Molto bene, ho esaudito il tuo desiderio e posso andare Molto bene, ho capito Molto bene, ho capito Molto bene, ho capito Molto bene Molto bene, ho capito